La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com, il blog di Marcello Coppo. La finale del Paglio di Asti 2011 è la finale del Paglio di Asti 2011. La finale del Paglio di Asti 2011 è la finale del Paglio di Asti 2011. La finale del Paglio di Asti 2011 è la finale del Paglio di Asti 2011. La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com, il blog di Marcello Coppo. Grazie.